Per cominciare vorrei focalizzare l'attenzione sull'amore, quasi sempre nella nostra vita è presente qualcuno che amiamo, ad esempio figli, genitori, ragazzi, compagni, amici. Dopo aver concentrato l'attenzione sull'amore che proviamo per la persona che abbiamo scelto, possiamo chiudere gli occhi. Nel processo che definirei come guardare il sentimento, possiamo scordarci di chi ha chiuso gli occhi e a chi era rivolto questo sentimento d'amore. Quello che rimane è l'interezza dell'amore stesso. Senza bersaglie e senza egoismo, ora abbiamo un piccolo assaggio di cos'è l'amore. Quando non consideriamo un chi ama e un chi è amato. A cosa serve tutto questo? Serve a comprendere gli altri, a comprendere noi stessi, a creare un legame compassionevole. Questo perché il sentimento è lo stesso per tutti noi. La differenza sta solo nel modo in cui sfocia, cioè nei diversi schemi mentali che vengono attivati a causa di differenti input necessari a far sbocciare un feeling qualsiasi. L'essenza del sentimento è la stessa per tutti. Cambiano solo i condizionamenti, piccole nubi che nascondono momentaneamente il sole. Una volta che abbiamo assaggiato il sentimento senza condizionamento, spariscono i conflitti. Senza conflitti siamo in grado di utilizzare più lucidamente le nostre capacità intellettive ed emotive. Possiamo quindi prendere decisioni più intelligenti della nostra media decisionale. Così iniziamo ad elaborare le informazioni in maniera più efficace e più consapevole. Inevitabilmente diventiamo una versione più intelligente di noi stessi. Quando ci arrabbiamo o proviamo ansia, o qualsiasi eccessivo sentimento condizionato, succede l'opposto. Diventiamo estremamente stupidi, non più in grado di processare le informazioni. Le idee che ci faremo e le decisioni che prenderemo saranno molto peggiori rispetto alla nostra capacità decisionale media. Ogni volta che la persona consapevole comprende di essere arrabbiata, scatta un campanello d'allarme. Collega questo allarme al fatto che il suo intelletto smetterà di funzionare a dovere. Ora ha una decisione da prendere. Continuare a deteriorare sempre di più le proprie capacità o ritirare i propri giudizi e la propria ira. Aspettando un momento in cui la sua intelligenza abbia la possibilità di risplendere nuovamente. Una volta comprese queste informazioni, abbiamo la possibilità in più di scelta in ogni cosa che facciamo. Possiamo essere più saggi e più liberi. Possiamo iniziare veramente a porci delle domande. Cosa cambia il paese mio di origine? Il nome che ho ed il colore della mia pelle? Il mio stato sociale? Dove sono i miei condizionamenti? Su che schemi mentali baso la mia vita? In che modo mi rapporto agli altri? Qual è la radice della mia sofferenza? Quali sono le mie forze e le mie debolezze? Il fatto di non vivere in una dittatura facilita estremamente il processo di crescita e di apprendimento. Allo stesso modo aumenta la probabilità dello sbando più totale. È una sorta di dualità. È una bilancia. Dove penderà? Dipenderà solamente dalle singole scelte di ognuno di noi. Non dare dello stupido a chi non può capire in questo momento. La nostra essenza di esseri umani è la stessa. Proviamo ad amare chi vorremmo offendere. Se non riusciamo ad amare lui personalmente, concentriamoci solo sull'essenza dell'amore. Perché è la stessa dentro ognuno di noi. Questo modo indiretto di amare ti consente di diventare più intelligente ed essere parte dell'importante processo di crescita della conoscenza collettiva. Amici, amiamoci.